Quello del cardinale Carlo Maria Martini scomparso il 31 agosto scorso è solo l'ultimo in ordine di tempo dei milanesi illustri i cui nomi sono iscritti nella lapide del famedio, il panteo milanese all'interno del cimitero monumentale che racconta dei milanesi che si sono distinti nei più diversi campi. Dal giornalista Giorgio Bocca al marionettista Carlo Colla, da personaggi sportivi come Edoardo Mangiarotti a Giulio Campanati, dai partigiani Isotta Gaeta, Stella Vecchio, Alessandro Vaia al tenore Franco Corelli. 20 nuovi nomi che si vanno ad aggiungere alle centinaia di concittadini che hanno contribuito a fare grande Milano ai quali le istituzioni oggi, nel giorno dedicato ai defunti, hanno espresso la loro gratitudine. È il momento nel quale la città di Milano rende omaggio ad alcuni dei personaggi che l'hanno resa grande e sono tanti, il Cardinale Martini, Giorgio Bocca, ma insomma anche Ferdinando Targetti. Abbiamo tanti nomi che vengono da vari ambiti di impegno, diciamo sport, cultura, religione, impegno nel sociale. Nomi sui quali in Consiglio Comunale c'è stato un accordo bipartisan. Questo è proprio il messaggio che si vuole mandare dal Comune, dall'amministrazione, dal Consiglio Comunale è che su certi temi che riguardano i valori, che riguardano il ricordare il passato per guardare il futuro e vivere il presente è fondamentale essere uniti perché i beni comuni sono di tutti e lavorare per il bene comune deve essere di tutti senza divisioni, senza contrasti, ma col dialogo e col confronto. Anche da segnale di questo tipo credo che arrivi una speranza per il futuro.